Dietro il fronto dell'ASPA Redusea ha sospeso il recupero dei crediti nei confronti dei laboratori privati. Apprendiamo con sollievo che l'ASPA di Siracusa ha deciso, come pure richiesto nel ricorso proposto a TAR di Catania, di tornare sui suoi passi e seguire le indicazioni e le prescrizioni impartite dall'assessorato alla salute della regione siciliana in merito alla sospensione del recupero delle differenze tariffarie a seguito della proposizione del ricorso in relazione alle sentenze del Consiglio di Stato. Lo dichiara l'Avvocato Giulio Fortunato Tescione, legale di alcuni dei principali laboratori privati di analisi cliniche e studi radiologici della provincia di Siracusa. Nonostante, spiega Tescione, l'assessorato regionale avesse chiarito ai vertici delle diverse ASPA provinciali, tra queste anche quella di Siracusa, che le direttive sui criteri di calcolo degli indebiti tariffari da recuperare sarebbero state impartite solo successivamente al pronunciamento del Consiglio di Stato, l'ASPA di Siracusa, a differenza delle ASPA delle altre province siciliane, ha continuato a trattenere mensilmente ingenti somme e laboratori privati per recuperare i crediti 2007-2013 nella totale assenza di criteri e principi giuridici certi. Non si comprende, continua il legale, come l'ASPA di Siracusa abbia potuto determinare l'ammontare complessivo dei singoli crediti, si batte bene da noi ritenuti addirittura insossistenti, pretesi dalla Regione nei confronti di ciascun laboratorio, per di più in assenza delle direttive sui criteri di calcolo degli indebiti tariffari da recuperare, che la Regione si era riservata di impartire a ciascuna ASPA solo in esito al pronunciamento richiesto al Consiglio di Stato e sulla scorta delle indicazioni che lo stesso consesso avrebbe fornito. Sebbene con immotivato ritardo, conclude l'Avvocato Tescione, non possiamo che dirci soddisfatti per questo cambio di rotta da parte dei vertici dell'ASPA Siracusana, il cui perpetuarsi sulla scorta di una ingiustificata disparità di trattamento avrebbe comportato un sicuro disservizio nell'erogazione di fondamentali prestazioni sanitarie.